Mezz'ora di ritardo... Il Renate... Il Renate... Domenica... Il Renate... C'era uno... Il campionato, no? Il Domenica era uno di quelli che c'era in tribuna mettito con la roba del Renate... Ah, era l'allustare... Cosa è l'allustare... Chiaro, dai! Però la roba del tribuna... Oh! Preoccupati... 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 Del... Eh, si! Eh, bravo! Quello si che è importante! Ma qualcuno... Oppure... Oppure... ... 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 punti per strada, poi ha vinto il derby su due partite, una vittoria in pareggio, però non passa. La Juventus è stata superata dal Genova, però passando una sola, secondo me le più forti non passano, perché l'Inter quest'anno secondo me era forte. Insomma quella squadra lì, il 2004 dell'Inter, l'Under 15 non si era qualificata ai play-off, neanche l'Atalanta, l'Inter e l'Atalanta, nessuna delle due erano nello stesso girone, l'Under 16 poi l'anno dopo uguale, cioè l'Under 17 per via della pandemia e i 2004 sono tutti forti quei giocatori, tutti. Grazie. 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 C'è un salmario. C'è un salmario. Grazie. 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 C'è un salmario. Vediamo. Non beccare un arco C'è stato Coglione Coglione Somaro 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 Giusto Un citopolo Sto suonando Forza Somaro Dai adesso Sto suonando Sto suonando Sto suonando Sto suonando Dai adesso Dai giù Viro 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 Ancora Ancora Dai Andri Forza Grazie. 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 Bravo. Fatti alle mani. Guarda. Grazie. 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 Vai. Vai. Desi. 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 bravo 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 direi cartellino quando vuole calma bravo 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 Mi piace, mi piace. Grazie a tutti. 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 iniziamo a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vino a tutti. Grazie a tutti. Non è finita, dai! 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 , dai!